Il duro lavoro ripaga sempre, lo sanno bene gli atleti della Hydro Sport che sono tornati da Chieti dove si sono svolte i campionati regionali esordienti di categoria con ben 176 medaglie di cui 68 ori, 62 argenti e 46 bronzi. A completare l'opera il primo piazzamento della classifica di società in ben 7 categorie su 12. Le cuffiette giallo-blu della categoria esordienti della Hydro hanno chiuso la manifestazione al primo posto con 803 punti davanti all'H2O Sport, seconda ad oltre 300 punti di differenza. Il bottino finale è stato di 70 medaglie, delle quali 31 d'oro, 26 d'argento e 15 di bronzo. Le medaglie d'oro sono giunte con Nicola del Papa tra gli esordienti A nei 100 e 200 d'orso, 200 rana e 200 misti. Nella stessa categoria Lorenzo Limonino si è imposto su tutti nei 400 stile. Giuseppe Borrelli ha trovato conferma nei 200 farfalla e Luca Fraraccio si è classificato primo nei 1500 stile. Grandi soddisfazioni sono giunte anche dal settore femminile. Regina assoluta della categoria è stata Federica Caruso che ha fatto l'unplane portando a casa 5 ori, 100 e 200 farfalla, 100 stile, 200 e 400 misti. Lucia Benini ha dominato su tutte nei 200, 400 e 800 stile, mentre Cristiana Angioglu è stata protagonista nella specialità d'orso, conquistando l'oro sia nella media che nella lunga distanza. Nella specialità rana si sono distinte Rebecca Miletti, prima nei 200, Martina Pollutro, prima nei 100, mentre nella farfalla ha primeggiato Noemi Reggi. Tra gli esordienti B nel settore maschile l'oro è arrivato con Patrick Comodo, nei 100, 200 e 400 stile. Nella gara in rosa è stata Fiorella Colanzi che ha dominato, in contrastata nei 100 farfalla e nei 100 e 200 rana e nei 100 e 200 stile. Se gli esordienti hanno fatto il pieno di podi e di buoni piazzamenti, non da meno sono stati gli atleti dell'Aidro delle categorie superiori, che sono riusciti a vincere ben 104 medaglie, delle quali 37 d'oro, 36 d'argento e 31 di bronza. Anche qui tanti metalli. Nel settore femminile, per la categoria ragazzi, Elena Colanzi, 3 ori, nei 100 e 400 misti e nei 200 stile. Francesca Miele è salita sul gradino più alto del podio, nei 50 stile e nei 200 rana. Claudia Gatti ha vinto negli 800 stile. Nella categoria juniores, Giulia Calabrese, protagonista assoluta nei 100 e 200 per Giulia, anche onoro nei 400 misti. Carmen Spina, oro nei 200 stile. Cadetti, nel settore maschile, per la categoria ragazzi, Cristiano Angioglu è stato autore di una cinquina di ori, nei 100 e 200 farfalla, nei 200 e 400 misti e per finire nei 400 stile. Alessandro Benini è giunto prima nei 100 e 200 d'orso e nei 1500 stile, mentre Arturo Spina ha vinto l'oro sia nei 100 che nei 200 rana. Nella categoria juniores, Francesco Gatti, oro sia nei 50 che nei 100 e 200 d'orso. Alessandro Felice nei 200 stile, Giovanni Pugliesi ha chiuso al primo posto nei 200 farfalla. Proseguiamo con la categoria cadetti, quattro ori per Ivan Borrelli nei 50 d'orso, nei 100 e 200 e nei 200 misti. Cristian Di Biase si è piazzato in prima posizione nei 50 e 100 stile. Infine, nei seniors, Federica Licameli ha chiuso il primo piazzamento nei 100 farfalla. I prossimi appuntamenti sono i campionati italiani estivi, per i quali risultano attualmente qualificati Francesco Miele nei 100 e 200 rana, Giulia Calabrese nei 50 e 100 d'orso, Cristiano Angioglu nei 100 e 200 d'orso, nei 200 misti e 100 farfalla, Alessandro Benini nei 100 e 200 d'orso e infine Francesco Gatti nei 50, 100 e 200 d'orso. Tony Oriente è già in vasca per gli allenamenti dei suoi ragazzi.